Il primo gol è anche da professionisti, siccome faccio gol una volta ogni 15 anni vorrei fare una dedica speciale a mia moglie, mio figlio e a tutti i miei compagni di squadra. Sono contento perché il mio gol è servito a raggiungere questa terza vittoria consecutiva e ce lo meritiamo perché è da tanto che lavoriamo, lavoriamo tutta la settimana bene, concentrati e ci stiamo togliendo tante soddisfazioni. Avete sofferto un po' nella fase finale lì nel retrovio, vi ha aiutato Spadavecchia? Ma è normale, è normale, noi abbiamo fruttato oggi una grossa squadra, una squadra che secondo me può stare tranquillamente in zona playoff, siamo stati brevi a soffrire, è andata bene.